Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Mi scuso se sentirete un po' di rumori di sottofondo, ma alle mie spalle sto facendo una stampa 3D che sta andando già da diverse ore e non posso ovviamente interromperla. Dunque, oggi sono qui per fare la reaction del trailer finale della live action del Re Leone, diretto da Jon Favreau, che uscirà questa estate. Dunque, sono stracurioso di vedere, anche perché mi hanno detto che è un trailer super figo e ho visto che in molti si sono esaltati. Ti direi quindi di partire subito, distruggendo la tastiera come al solito. La vita a volte è ingiusta. Non è vero piccolo amico. Mentre alcuni sono nati nel barchetello, altri trascorrono la vita nell'oscurità. Scarra! Hai rimosinari avanzi. Che figo Scarra. Tutto ciò che vedi, coesiste grazie a un delicato equilibrio. Mentre gli altri cercano ciò che possono prendere, un vero re cerca ciò che può dare. Graficamente mostruoso. Oddio. Non ce la posso fare. Si va. E non tornare mai più. No! Devi prendere il tuo posto Nel cerchio della vita Eh figo No Beh ragazzi che dire Mi stavo emozionando già adesso nel trailer Graficamente è veramente spaventoso Cioè il pensiero che tutti questi animali Sono stati fatti completamente Interamente in computer grafica Mi manda fuori di testa Perché sono fatti veramente troppo bene Nuova live action di Disney Qua è la trasposizione completa in CGI del cartone animato Da quel poco che si è visto nelle scene di questo trailer E praticamente Spero che sarà praticamente identico E non se ne vagano in ventino parti Come hanno fatto con La Bella e la Bestia Sono stracurioso Non vedo l'ora E molto probabilmente piangeremo tutti quanti Nuovamente per la morte di Mufasa al cinema Forse questa volta farà anche più male Perché sono molto più reali Molto molto figo Questo Mi ispira forse anche più di Di Aladdin Fatemi sapere cosa ne pensate voi Con un commentino qui sotto E noi come sempre come al solito Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao